Tutti siamo in ricerca della felicità, tutti cerchiamo ogni giorno una gioia, solo che spesso non la troviamo, perché quella che cerchiamo non è quella vera. E che allora San Paolo ci dice Dio ama chi dona con gioia, è il far felice gli altri l'unica vera gioia possibile e reale per noi uomini. E che allora come leggiamo nel Vangelo di Matteo il digiuno, la preghiera e l'elemosina sono opere non per farsi vedere gli altri, ma per far felice gli altri, perché nel digiuno uno impara ad essere libero da se stesso, nell'elemosina uno impara ad essere libero dalle cose, nella preghiera uno impara ad essere libero dalla falsa immagine di Dio. Queste opere hanno senso perché ci aiutano a scoprire la vera gioia e a entrare in questo nuovo dinamismo, l'unico vero dinamismo che riempie il nostro cuore. La vera gioia è far felice gli altri. Dio ama chi dona con gioia. Buona missio.